Ti vedevo, ti sentivo, ma non ero certo che il collegamento fosse funzionante, invece funziona perfettamente. Allora, intanto anticipazione abbastanza scontata, è una settimana cruciale per quanto riguarda il tema del lavoro e di quello parleremo da molti punti di vista con i nostri ospiti. La formazione di oggi, Antonio Macaluso che è il vice direttore del Corriere della Sera, poi c'è il senatore Augusto Minzolini di Forza Italia, fra poco arriverà l'onorevole Edoardo Fanucci del Partito Democratico, con noi ancora Elisabetta Piccolotti di SEL e a Milano l'economista Claudio Borghi. Questa è la formazione. Per quanto riguarda il tempo, avevo una curiosità, mercoledì a Milano c'è il vertice, la conferenza europea sul lavoro e sul welfare. Che tempo si prevede mercoledì, Paolo? Direi tempestoso, ma insomma una battuta perfino scontata. Ma diciamo che qualche pioggia ci può essere ancora, ancora mercoledì sicuramente, quindi tenetene conto da questo punto di vista. Grazie e buon lavoro. Va bene, grazie Andrea. Io chiudo facendo vedere velocemente due foto che ci ha mandato Salvo, si riferiscono alla giornata di sabato e si riferiscono alla città di Catania. Abbiamo parlato del maltempo al sud. Salvo mi ha mandato questa foto prima dicendo alluvione a Catania. E dico, sì, questi sono allagamenti, non sono alluvioni. Però poi me ne ha mandato un'altra che se è dello stesso giorno, guardiamo l'altra immagine, l'altra foto, se è dello stesso giorno, qui veramente parliamo di qualcosa di diverso, perché questi non sono allagamenti, guardate dove sono le macchine. Non so, ripeto, se questa si riferisce a sabato, ma se si riferisce a sabato, chiaramente la situazione era un pochino più che qualche allagamento, che quando ci sono i temporali succedono, sono abbastanza normali. Se volete ci vediamo più tardi alla fine di Coffee Break, 10.30, 10.40, circa, adesso, Andrea Pancani, Omnibus. Eccoci, allora, buon lunedì, dicevamo che è una settimana che si apre all'insegna del tema del lavoro, domani il disegno di legge delega ricomincia, diciamo, la discussione in Senato. C'è l'incognita del voto di fiducia, peraltro oggi in un'intervista la Presidente della Camera Boldrini avverte, diciamo così, nuovamente il governo, insomma, non ecceda col ricorso ai voti di fiducia. Domani, sempre domani, il Premier, come ampiamente annunciato, incontrerà i sindacati, e si parlerà di Jobs Act, ma anche di TFR in busta paga. E, mercoledì, questa conferenza europea, appunto, su lavoro, welfare, un appuntamento a cui Renzi vorrebbe arrivare, con in tasca, appunto, il via libera del Senato sulla legge delega. Nel Partito Democratico restano, però, ancora i distingui, i malumori della minoranza, dei dissidenti, insomma, chiamiamoli come vogliamo, anche se il capogruppo del partito, appunto, Palazzo Madama Zanda, ha detto, no, il gruppo è un gruppo maturo, e alla fine vedrete che il voto sarà compatto, meno, ovviamente, qualche distinguo. Renzi, ieri, ha ripetuto che vorrebbe il TFR in busta paga dal 2015, ci sono diverse soluzioni tecniche, diciamo così, allo studio, e anche questo sarà motivo, insomma, di confronto con le cosiddette parti sociali. Buongiorno ad Antonio Macaluso, allora, vice direttore del Corriere della Sera. Cominciamo proprio dal disegno di legge delega sul lavoro, no? Pesa questa incognita fiducia, mi pare che ancora una decisione ufficiale non sia stata presa, che però potrebbe spostare equilibri come pure stati d'animo e malumori, o no? Eh beh, questo è un film già visto, cioè, è giusto porre la fiducia e arrivare effettivamente effettivamente mercoledì a Milano con qualcosa in bolsa, o invece è giusto che il dialogo e quindi il dibattito possa avere il suo massimo sviluppo? Personalmente credo che chiaramente garantire il dibattito sia sempre la strada migliore. Peraltro devo dire che di dibattito ne abbiamo, insomma, già visto abbastanza, cioè sono settimane, sono mesi che stiamo parlando di queste misure, quindi penso che Renzi poi alla fine abbia ragione quando a un certo punto deve comunque tirare, deve stringere, deve arrivare. Cioè, se i dibattiti devono essere come quelli che abbiamo visto in passato sulla riforma del Senato, che non sono dibattiti ma sono, diciamo, ostruzionismo, sono... Io penso che torni veramente importante il discorso dei regolamenti parlamentari e di un dibattito, diciamo, che possa essere garantito sulle basi, diciamo, di civili comunque di qualcosa di costruttivo e non soltanto di ostruzionistico. Quindi per quanto mi riguarda io penso che lui sia assolutamente, cioè Renzi sia assolutamente legittimato a chiedere la fiducia e quindi a stringere da questo punto di vista, perché penso che in questo momento effettivamente in cui l'Europa, ancora sui giornali di questa mattina, tutti quanti, cioè il fatto che siamo più che osservati speciali ormai, diciamo, siamo con un piede a un passo, diciamo, da una sorta di commissariamento, dimostrare che al di là delle parole, come ci hanno mille volte ricordato, riusciamo a fare anche qualcosa, a stringere, dopodiché possiamo discutere sul fatto se questa riforma sia, diciamo, risolutiva di una serie di problemi, di un altro certo discorso. Ma questo appunto è un altro discorso e magari ne parliamo dopo o meno. Comunque sia, comunque sia, visto che sul tavolo c'è questo, intanto dico prendiamoci questo. Quindi a semplificare, diciamo, all'estremo, diciamo, Renzi si presenta mercoledì a questa riunione con questo voto di fiducia, come dire all'Europa guardate, su questo ci siamo riusciti e lì c'è in ballo la cosiddetta flessibilità, insomma, poter... Esatto, cioè qualcosa comincio a portare a casa, non sono soltanto parole, almeno una parte del Parlamento, un pezzo del Parlamento, finché c'è questo bicameralismo me lo sono portato a casa e adesso andiamo avanti. Cioè, una prova di buona volontà, come dire, ecco, io penso che sia da parte sua legittima, dopodiché si dirà che è un colpo di Stato, che non si fa, eccetera, però ripeto, onestamente non credo che nulla venga tolto al dibattito, perché è un dibattito che va avanti da settimane e quindi sicuramente poi, appunto, vedremo adesso i sindacati... L'eventuale fiducia renderà più tesi i rapporti all'interno del suo partito o no? Beh, questo sicuramente, sicuramente sì, anche perché Bersani l'altro giorno ha detto attenzione, perché poi alla fine facciamo il dibattito, perché comunque poi alla fine dopo il dibattito noi voteremo come la ditta, cioè lui la chiama, no? La chiama la ditta e quindi alla fine... Però questo è Bersani e non so quanto rappresenti ancora, quanto sia in grado di guagolare e quanto non ci siano invece delle forze che vanno un po' per conto loro. Io penso che i rapporti siano molto tesi e non so se il PD in qualche caso si sia avviato diciamo a un punto di non ritorno per quanto riguarda diciamo una qualche pattuglia diciamo che usa un linguaggio ormai sempre più di rottura fino al punto di non ritorno. Insomma, è successo nel passato, lo abbiamo visto, non mi stupirebbe che potesse succedere. Il PD di non ritorno pensi a qualche parte del partito che se ne va? Sì, io non lo escluderei, potrebbe essere, l'abbiamo già visto. Guarda, siccome mi hai dato un bel assist, io vado da Elisabetta Piccolotti di Selle, no, perché chi è che ha fatto immaginare questo scenario? Civati, no, che tra i più fieri oppositori di Renzi all'interno del suo partito potrebbe magari decidere di venire da voi di Selle, potrebbe nascere qualcosa diciamo a sinistra di più ampio, sono scenari plausibili, verosimili o è tutto così in movimento che insomma è prematuro parlarne? La prima cosa è che a noi interessa prima di tutto fare la battaglia sul lavoro e contro la precarietà del lavoro in maniera coordinata, ampia, tentando di coinvolgere quanto più società civile e anche società politica sia possibile. Io credo che la fiducia su questo provvedimento non sia un atto di buona volontà ma sia il solito giochino a ricatto, o votate quello che dico io oppure cade il governo, andiamo a casa, è finito, c'è solo il burrone dopo di me e ricomincia questa logica emergenzialista. Il dibattito sul lavoro non si fa solo nei talk show e sui giornali, sarebbe bene farlo in aula e visto che è una norma molto contestata e che è una riforma che non prevede solo la cancellazione dell'articolo 18 ma tutta una serie di altre cose di cui sarebbe bene discutere con attenzione, io credo che sia bene che invece di porgere cordiali omaggi all'Unione Europea si porga un cordiale omaggio al Parlamento italiano che è sovrano in questo Paese e lo si faccia discutere delle cose che riguardano la vita dei cittadini del nostro Paese. Lo dico perché la situazione è estremamente delicata e anche un po' spiacevole dal punto di vista del dibattito. Ci sono alcuni luoghi comuni che riguardano l'articolo 18 che vengono ripetuti come delle formule magiche ma che sostanzialmente non significano niente. Si dice che l'articolo 18 non c'è in nessun Paese d'Europa, invece la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato c'è in Francia, c'è in Spagna, c'è in Portogallo, c'è nella stessa Germania dal 2004. Non si riesce a fare un dibattito di merito, allora noi guardiamo alla sinistra italiana come il luogo dove possono maturare delle idee innovative perché non siamo di fronte a un governo che produce elementi di innovazione. Il governo di Matteo Renzi è semplicemente e puramente un governo che riproduce le stesse politiche liberiste che noi abbiamo visto mettere in atto a pezzi e bocconi ogni tanto... Dal centro-destra. Non dal centro-destra, negli ultimi venti anni, anche dal centro-destra, ma in generale con una continuità che ci ha portato fino alla crisi economica. Noi a questa cosa diciamo no e per noi innovazione vuol dire cambiare questo tipo di politiche e impostare una politica sia dal punto di vista della politica economica, quindi una politica espansiva sia dal punto di vista monetario che dell'economia reale, sia sul lavoro. Per noi si può fare il contratto a tutele crescenti, ma quali sono queste tutele? E quali sono i contratti che si cancellano? Perché un contratto a tutele crescenti ha senso, non lo dice Lisabetta Piccolotti, lo dice persino Giavazzi, se togliamo tutta l'altra selva di contratti. Qua non si capisce nulla. Siamo in una confusione devastante. Il Parlamento dovrà votare entro mercoledì un testo di legge che è una delega in bianco a Matteo Renzi, il quale la mattina si sveglia e dice oggi dico che facciamo così, domani mattina si sveglia, no faremo colà. Non si può discutere così, noi vogliamo vedere un testo, vogliamo sapere che cosa vuole fare perché parliamo di lavoro e parliamo della vita delle persone. Se parlassimo dei fatti nostri, vabbè decide Renzi. Io credo che questo paese sia sull'orlo del baratro, non solo perché l'Unione Europea ci guarda da lontano e diciamo ci vuole imporre i dogmi del rigore che non ha risolto la crisi economica in nessuna parte del mondo, infatti l'Europa sta come sta diciamo a differenza dell'America e di altri continenti, ma ci vuole imporre di fare una riforma di cui non conosciamo nello specifico il contenuto, che serva a una cosa sola, abbassare i salari delle persone che lavorano in questo paese. Noi a questo diciamo no, perché non c'è TFR in busta paga che regga, se si vuole che ripartano i consumi bisogna alzare i salari, non abbassarli. Questo peraltro mi pare con varie sfumature l'abbia detto però anche il Presidente del Consiglio in varie occasioni. Buongiorno ad Augusto Minzolini, mi viene da sorridere perché tu ovviamente rispetto anche al tuo vertito hai posizioni pubbliche e note spesso differenti, ma siete sempre convinti dell'appoggio a Renzi sul Jobs Act, ammesso che resti quello insomma che più vi piace, per esempio l'articolo 18 dopo la direzione del PD è uscito a detta di molti un po' anacquato rispetto alle posizioni diciamo espresse dallo stesso Renzi, voi che farete? Ma intanto guarda se per caso c'è la fiducia, quindi ci solleviamo dal problema. Io però sono d'accordo con quello che diceva prima la collega di rifondazione, secondo me… Di SEL. Di SEL, scusami, io sono… Poi io parto da un presupposto, non credo che ci siano tante volte precedenti per cui si è messa la fiducia su una legge delega, la legge delega è una legge in bianco, quindi già di per sé, credo che i telespettatori lo capiscono, è una cosa che non… Cioè una grande cornice che va… Non puoi mettere la fiducia su qualcosa che non è chiaro. Poi per quanto riguarda la vicenda in generale, io l'ho detto anche qui, non è che sono tanto appassionato all'articolo 18, lo dico francamente, io non penso che quella sia una delle priorità che possono davvero cambiare il corso del paese per quanto riguarda la crisi di governo, penso che ci sarebbero altre priorità ed è quello per cui io continuo ad avere dei dubbi sempre più crescenti rispetto all'azione del governo Renzi. In più ti dirò un'altra cosa rispetto alla vicenda adesso, da questo punto di vista parlare ora di fiducia mi dà tanto l'impressione, lo dico, che in una riforma che è poco chiara, in cui rischia di avere contenuti probabilmente anche diversi rispetto a quelli che doveva avere all'inizio, il punto centrale con cui Renzi tenta di dimostrare che è una riforma forte e profonda è proprio la polemica che si porta dietro, io creo polemiche non tanto per quello che ho dentro il provvedimento, ma perché polemizzando con SEL o polemizzando con la minoranza del PD dimostra che quella è una grande riforma, ma noi non siamo più a questo punto, noi abbiamo ormai, in questo sono d'accordo, siamo veramente all'ultima spiaggia, io non riesco davvero a comprendere, partendo dal presupposto, ma non lo dico io, ieri lo diceva credo sul Corriere o su Repubblica il responsabile della General Motors Poli in Italia, che diceva che non è l'articolo 18 una delle priorità che porta gli investitori stranieri a venire in Italia, allora tutto questo, perché faccio questo discorso? Perché o noi ritorniamo veramente, tanto i tempi sono quelli che sono, a porci il problema di quale dovrebbero essere quei 3, 4 punti su cui questo governo dovrebbe misurarsi con la crisi o altrimenti noi rischiamo solamente di perdere tempo, tanto più che quando vedo che il documento del DEF è quello che è, noi siamo passati con una grande crociata sui tagli della spesa pubblica che era partita da 16 miliardi quest'estate, abbiamo avuto un commissario, poi siamo passati a 13 e adesso stiamo a 5, 6, capisci, questo non è serietà, perché quella è una priorità come una priorità al fisco, l'articolo 18 è una coperta per coprire quello che non si fa. Sì, se però Renzi ci riesce, si porta a casa questo primo sì, al vertice di mercoledì, però rispetto anche all'occhiuto Europa che ci guarda, lo ricordavamo, e come se siamo sorvegliati speciali, forse è un passo avanti. Ho capito, ma io rispetto a una cosa del genere, con l'Europa mi sarei misurato ad esempio introducendo in maniera più complessiva i contratti aziendali, quella è una cosa che ti dà grande flessibilità. Su cui credo ci sarà tutta una discussione domani con i sindacati. Su quello lo capisco, non lo capisco sull'articolo 18, perché lì veramente è una battaglia ideologica che poi se andiamo a vedere alla fine sarà talmente diciamo come l'Italia alla spesa pubblica, declinata, che alla fine non servirà a niente, servirà soltanto ad aver coperto con un dibattito pieno di polemiche, squassando la sinistra, un vuoto di proposta politica e di capacità di governo che è propria del governo Renzi. Allora Borghi, eccolo lì, Borghi che salutiamo e che un po' insomma non avevamo ad omnibus. Allora, qual è la sua riflessione? Cioè fa bene Renzi ad accelerare il più possibile per presentarsi appunto mercoledì a Milano con in tasca già questo primo bottino o no? A me sembra che manchi a tutti un po' un pezzo, vale a dire nelle proposte che ho sentito fino adesso non si tengono per un lato o per l'altro. Perché? Vabbè, io con la mia storia faccio fatica a fare il difensore dell'articolo 18 perché in una maniera o nell'altra ho sempre detto che in tempi normali era dannoso, io stesso da dirigente non ho assunto in tempi normali, ripeto, tanta gente proprio perché il dipendente poi dopo non si poteva più quantomeno ridimensionare. Ma guardi, ieri la Nokia ha licenziato 155 persone con una mail di notte. No, 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 ma sono... Per favore, la Nokia ha appena licenziato 155 persone con una mail di notte dopo un mancato accordo con i sindacati, per cui in questo paese si può licenziare anche così. Mi perdoni, prima di dire che sto dicendo una cosa contro quello che lei pensa, mi lasci finire, non la vediamo. Allora, io stavo proprio dicendo che pur dato che nella mia storia faccio fatica a dire che io sono contro l'articolo 18, in questo momento sono contrissimo, non so che altra maniera di dire per poter placare la raiatura della signora Di Shell, sono assolutamente contro questo tipo di dibattito e soprattutto contro toccare l'articolo 18, perché non ci si rende conto che siamo in una situazione emergenziale, quindi supponiamo che io consideri che l'articolo 18 sia una cosa brutta, è equivalente a dire che bere fa bene, sono due affermazioni che dal mio punto di vista posso considerare corretti, però se bere fa bene, ma se in questo momento io sto avendo davanti una persona che annega, di sicuro il fatto di dargli un bicchierino d'acqua non credo che sia esattamente quello che c'è bisogno di fare, se uno annega ha bisogno di una mano, non ha bisogno di un bicchiere d'acqua, eppure bere fa bene, quindi da quel lato lì direi che ci siamo. In questo momento mi sembra evidente che in Italia manca il lavoro e manca la domanda, e le due cose sono collegate, per cui se io prendo e aggiungo flessibilità in uscita, la flessibilità in entrata direi che ormai è abbastanza sodata, credo che in questo momento se uno ha per miracolo qualche posto di lavoro ad offrire, riesce tranquillamente ad assumere una persona con qualsiasi tipo di forma, anche con i voucher o qualsiasi cosa. Se io aggiungo possibilità di licenziare otterrò probabilmente più disoccupazione, non lo so, così è a logica. Se io ottengo più disoccupazione ottengo meno domanda, ottengo ancora più disperazione. Dato che in questo momento la disoccupazione in Italia è la più alta della storia, quantomeno della storia recente, io direi che il problema è perché c'è la disoccupazione. La signora di Selle ha detto una cosa corretta, dice non c'è domanda in Italia, quindi bisogna alzare gli salari, è vero, però sappiamo benissimo e qui arriva il fatto che non si tiene il tavolo, che se io alzo i salari, già adesso un problema di competitività, divento ancora meno competitivo e quindi cosa succede? Succede che ci saranno ancora più aziende che non riusciranno a lavorare e quindi come faccio io a tenermi, vale a dire l'Europa ti dice abbassa i salari perché così diventi competitivo, un Premier normale dovrebbe dirgli col cavolo che io abbasso i salari perché così divento competitivo, perché innanzitutto creo ancora meno domanda interna e quindi vado ancora più in recessione. Se vado ancora più in recessione il mio debito diventa ancora più grande ed è la via simpatica per saltare per aria, che quindi è quello che diciamo la strada dove ci aveva messo Monti per intendersi e dove incredibilmente si pensa ancora di andare avanti su questa strada che è evidentemente fallimentare. Quindi l'unica maniera per riuscire a tenere assieme tutto, vale a dire recuperare competitività e d'altra parte invece non abbassare i salari o quantomeno non creare disastro è venire fuori dall'Europa. Un attimo, un attimo Borghi, allora sul venire fuori dall'Europa, no no e questa è la parola magica, io la blocco perché c'è la pubblicità ma riprendo dal venire fuori dall'Europa, subito dopo la pubblicità. Allora ho promesso quest'altra domanda a Borghi, intanto saluto Edoardo Fanucci che ci ha raggiunti, ovviamente essendo esponente non solo al Partito Democratico ma di assoluta fede renziana, diciamo così, li possiamo chiedere alcune cose di cui già abbiamo parlato all'inizio, però voglio sapere una cosa da Borghi, secca, ma l'Italia doveva fare come la Francia l'altro giorno, cioè dire a noi del 3% in fondo in questo momento non ci importa, abbiamo bisogno di risorse in deficit, diciamola così e quindi o accettate la cosa oppure ve ne farete una ragione, cari europei, cara Germania, è questo che dovevamo fare? Posto che sarebbe meglio di altre cose ma in ogni caso non è assolutamente risolutivo perché bisogna sistemare gli squilibri interni all'Europa, vale a dire se noi siamo meno competitivi rispetto alla Germania, le possibilità sono due, o svalutiamo la moneta o svalutiamo il lavoro e allora quello che ci vogliono chiedere di fare l'Europa è la svalutazione del lavoro, che però ha tutta una serie di conseguenze devastanti, la cosa più facile sarebbe svalutare la moneta, altri sistemi non ne conosco, quantomeno che non siano irrealistici, per esempio c'è chi dice che la Germania dovrebbe fare inflazione, ma praticamente dovrebbe pagare moltissimo di più i suoi dipendenti in modo tale da rallentare lei, cioè vale a dire da creare inflazione interna e diventare meno competitiva, ma la Germania non si sogna ovviamente nemmeno di farlo perché dice così diventerei meno competitiva in generale anche sui mercati extraeuropei, per cui se noi in questo momento miracolosamente cominciassimo a spendere in deficit e così via, la gente comprerebbe prodotti stranieri, l'austerità che ci hanno fatto fare fino adesso aveva un obiettivo, non certo spero il risanamento dei conti perché si è visto subito che era una idiozia totale, quanto più fa austerità quanto più si contrae il PIL e quindi quanto peggiora il deficit PIL, quanto peggiora il debito PIL che è quello che abbiamo visto, quindi io penso, spero che l'austerità che ci hanno fatto fare servisse esclusivamente per pareggiare la bilancia dei pagamenti, vale a dire farci importare di meno, che è un sistema criminale ma efficace dal mio punto di vista, se noi in questo momento cominciamo a dimenticarci l'austerità e spendiamo di più, è importeremmo di più e quindi si aumenta, si allargherebbe il deficit della bilancia dei pagamenti e saremmo esattamente punto a capo, chi lo paga questo deficit? Per cui l'unica maniera per far tenere tutto e qualcuno in casa PD se ne sta accorgendo, è colpevolissimo e grave ritardo, ma se noi guardiamo per esempio le interviste di Fassina dice chiaramente cos'è il problema, dice che in questo momento in mancanza di riallineamento interno degli equilibri in Europa e si può fare soltanto in quella maniera lì, a quel punto poi dopo bisogna pensare una disgregazione controllata dell'euro perché così com'è non si tiene, prima ce ne rendiamo conto e meno perdiamo tempo. Sì, Fanucci, allora abbiamo parlato ovviamente molto del tema del giorno che è fiducia sì o fiducia no sulla legge del lavoro, per Renzi metterla forse vorrebbe dire presentarsi mercoledì a Milano al vertice europeo con qualcosa in tasca di più concreto, ma potrebbe agitare ulteriormente il suo partito, peraltro questo forse non lo abbiamo detto, ma ieri c'è stata un'intervista a Matteo Richetti che di Renzi è stato un fedelissimo fin dalla prima ora, insomma con accenni critici a Renzi, soprattutto alla cosiddetta annuncite, no? Che succede? Le critiche fanno parte della democrazia, è normale, noi siamo un paese democratico, viviamo addirittura noi in un partito democratico a differenza di altri e di conseguenza il dissenso fa parte del gioco, è chiaro che poi un partito serio deve fare sintesi, assumersi la responsabilità di questa sintesi è il compito di un leader, un vero leader che da tempo mancava alla sinistra italiana, al centro-sinistra, Matteo Renzi si fa carico di questo, se ne fa carico con la responsabilità che gli è riconosciuta non solo in Italia ma anche in Europa e questo chiaramente attira dissenso, contrarietà, a me piacerebbe parlare di merito, piacerebbe parlare delle proposte innovative contenute nel Jobs Act, è vero c'è l'articolo 18 ma c'è una riscrittura complessiva dello Statuto dei Lavoratori, esiste il sistema delle tutele crescenti, esiste l'ipotesi del salario minimo, esiste l'abolizione di tanti contratti di precariato diffuso che non esisteranno più, certo si può fare di più, si può sempre fare di più, ma da qualche parte dobbiamo partire e noi abbiamo individuato una priorità non perché ce lo chiede l'Europa come si diceva all'inizio in trasmissione, ma perché ce lo chiedono gli italiani, ce lo chiedono le tante imprese che il lavoro a tempo indeterminato non ce l'hanno più, non esistono più imprese a tempo indeterminato e di conseguenza dobbiamo anche offrire degli strumenti adeguati ai tempi che consentano da un lato di agevolare e tutelare non solo il lavoratore ma anche l'impresa e laddove l'impresa non ce la fa arriva lo Stato, ecco allora l'ipotesi di rivedere il sistema degli ammortizzatori sociali, certo costa moltissimo, è impegnativo, dovremo chiedere il supporto anche dell'Europa in questo processo di riforma, lo ha fatto la Germania, lo ricordavamo con Augusto qualche tempo fa, l'altra settimana, bene lo faremo anche noi, ci siamo arrivati in ritardo, ci siamo arrivati in un momento dove effettivamente il clima generale non ci aiuta, viviamo una recessione diffusa, tutto va contro le politiche di crescita e di sviluppo, esistono le guerre nel Medio Oriente, c'è una crisi diffusa che riguarda purtroppo anche l'Europa, in particolar modo l'Europa e allora cerchiamo di dare un senso a questa ipotesi di questo lavoro di governo e anche il ragionamento sulla fiducia, è un ragionamento che mi appassiona fino a un certo punto, è il sistema legislativo italiano che ci porta ad essere costretti a mettere le fiducia sui provvedimenti che ci stanno più a cuore, lo abbiamo visto nei precedenti governi, di sinistra, di destra, tecnici, la fiducia è uno strumento ormai ordinario di attività del Parlamento, di conseguenza dobbiamo prendere atto di ciò e se vogliamo possiamo riformare anche il sistema legislativo, siamo qui per cambiare l'Italia, ce la stiamo mettendo tutta con le difficoltà del caso e rispondendo a Elisabetta che nel primo intervento parlava di abbassare i salari e fare una sorta di mercificazione del lavoro, noi siamo proprio nell'esatto opposto, l'ipotesi degli 80 euro che non è più un'ipotesi ma in realtà con la volontà anche di confermare questa misura con la legge di stabilità, ma anche l'ipotesi del TFR, cosa fa l'ipotesi del TFR? Mette ai lavoratori delle risorse nelle proprie tasche, risorse che sono già dei lavoratori, però non erano le loro tasche, si finanziavano le imprese con queste risorse, allora l'idea è mettere un po' di soldi in tasca degli italiani, cercare di riattivare i consumi, riattivare la fiducia anche in questo Paese, dall'altro lato però compensando le aziende per questi chiaramente minori finanziamenti, garantendo le aziende con la Cassa Depositi e Prestiti, con i soldi della BCE, da dove questo sarà possibile, di continuare ad andare avanti senza avere assolutamente nessun maleficio da questa azione. L'incontro di domani con i sindacati sarà un incontro dove ci sarà della sciccia o sarà un incontro più simbolico in vista anche del vertice di mercoledì? Insomma c'è la volontà di trovare intesa su qualche punto o no? Dipende, dipende dall'atteggiamento dei sindacati, io ricordo le ultime dichiarazioni dei sindacati che senza neanche aver letto il decreto parlavano di sciopero generale, ecco questo è un atteggiamento io ritengo insopportabile, inaccettabile, Renzi apre la discussione, non l'aveva mai fatto, riapre una sala che da un punto di vista simbolico a Palazzo Chigi ha un grande valore e di conseguenza vuol dire riaprire la discussione, dare una sorta di credito all'attività di un sindacato che spesso ha difeso chi i diritti ce li ha, non chi non ce li ha oppure le persone che sono la maggior parte in questo Paese che auspica o spererebbe un atteggiamento diverso di sindacati anche nei loro confronti. Se l'atteggiamento sarà costruttivo io ritengo che potremo avviare un nuovo percorso anche con i sindacati, se l'atteggiamento come è stato in questi mesi sarà solamente distruttivo, allora in quel caso ha ragione Renzi, noi andiamo avanti, andiamo avanti anche senza i sindacati. No, nel senso non è che lui riapre la sala verde dicendo prende o lasciare, perché questo non è il vero. Ma dipende dagli atteggiamenti. Pignolini che dice più o meno... Posso andare, cioè certe volte dice il sindacato ci ha attaccati senza neanche leggere i testi, ora non è una battuta, però certe volte leggere i testi del governo Renzi è un po' complicato perché non ci sono, cioè certe volte diciamo che il Consiglio dei Ministri approva dei provvedimenti che prima che poi effettivamente siano leggibili qualcuno possa vederli, diciamo cioè come anche nella direzione del PD, l'intervento di Renzi giustamente è stato un intervento molto politico, dove lui ha parlato di quale sinistra vogliamo fare, quale cosa vogliamo poi però nella sostanza diciamo ci sono delle enunciazioni, può essere questo ma può essere anche quello, forse facciamo un po' di quello, ci mettiamo qua, però su questo possiamo discutere allora vediamo questi testi, cioè esattamente di che cosa andiamo a parlare, ecco allora se l'incontro di domani diventa un incontro dove si parla dei massimi sistemi, cioè articolo 18, sì articolo 18, e non si va nel concreto, i soldi per le imprese, per il TFR, la cassa depositi e prestiti, i soldi da BCE, ma non è esattamente la stessa cosa, come li andiamo a prendere, quali sono i meccanismi, cioè queste sono delle bellissime enunciazioni su cui siamo d'accordo tutti quanti, credo che anche Squinzi sarebbe felicissimo, diciamo, se avesse ma... Visto che non c'è chiarezza, oltretutto crei anche una sorta di anticorpo, per cui parli del TFR, sia Squinzi, cioè la grande industria, sia la piccola industria, non ne vuole sapere, ma perché? Perché non sa qual è il quadro, ormai abbiamo creato un meccanismo per cui diciamo c'è un atteggiamento diciamo di timore, proprio torniamo a Richetti, tu non hai voluto parlare di Richetti, però qualcosa l'ha detto, diciamo, questa storia dell'annuncite, molto spesso la gente non sa, diciamo, qual è il quadro dopo poi fa finire tutto questo bailam che noi abbiamo. Come viene passato il TFR. Sì, no, posso dire una cosa perché mi veniva in mente quello che diceva Minzolini, cioè, allora, prima di annunciare la cosa del TFR, tu dici, mettete nero su bianco come intendete procedere per questo TFR in busta paga. Poi discutiamo sul TFR, noi abbiamo parlato sul TFR, se noi andiamo a vedere lì, è una cosa che non si capisce come viene coperta, non c'è, oltretutto fai un DEF che di fatto non interviene per nulla, neanche sulla spesa pubblica, tutto quello di cui noi abbiamo parlato, come viene, dov'è la copertura finanziaria? Io parto da un presupposto, poi mi piace anche, diciamo, la forza con cui i renziani parlano delle... Io penso che quello che mi piace di Renzi è questa decisione, se noi dovrebbero trovare diciamo una miglior causa per esprimerla, capito? Vieni da un'esperienza simile, come dire. Nel senso io parto da un presupposto che rispetto al governo Letta e alla presidenza Letta c'è una maggiore carattere, però questo ad esempio, come dice Borghi, lo utilizzerei verso l'Europa, non lo utilizzerei su cose in cui alla fine non si capisce su che cosa ci scontriamo e soprattutto queste cose a quanto servono al paese. E questo è il punto che io contesto e mi vedi in questo atteggiamento, e quello che non capisco in parte del centro-destra è che dovrebbe incalzarlo su quel tema. Ma se noi parliamo, ecco, ieri c'era un bellissimo pezzo di Rampini che metteva, diciamo, la differenza sulla terapia che è stata adottata negli Stati Uniti e in Europa. Noi stiamo parlando di un toteme, quello del 3%, su cui credo che ci andiamo avanti non so da anni. Noi abbiamo visto che uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono riusciti a superare è perché tra il 2009 e il 2010 il rapporto deficit-pill è arrivato all'11%, tre volte il 3%. Noi perché non l'abbiamo fatto? È a ragione Borghi, perché la Germania non ce lo consente. E questo è un problema politico, è il vero problema, oltre al fisco, che oltretutto è collegato a questo, su cui si dovrebbe misurare un governo che poi oltretutto vorebbe essere l'emanazione del Partito Nazione, quindi del sistema Italia. Quindi è lì che tu dovresti far vedere quanto sei capace e che carattere hai. Se me lo fai su questo, allora cominci a pensare che la cosa non serve a cosa. Allora posso girare però questa domanda a Falucci, la dicevamo a Borghi, ma la risposta di Borghi era quasi scontata, conoscendo le sue posizioni anche nei confronti dell'Euro e dell'Europa. Ma perché Renzi, che pur dicendo, non commento, la Francia, insomma, la Francia ha la sua politica, fa bene, eccetera. Non ha il debito che abbiamo noi. Non ha il debito che abbiamo noi, ma perché Renzi non dice come la Francia, signori? Noi abbiamo bisogno di soldi per investimenti e quindi quel 3% per alcuni anni, scordatevelo, perché si continua invece a dare dichiarazioni, a fornire dichiarazioni di prudenza, eccetera. Io poi ho, e lo dico sommessamente, un'opinione molto personale, è che quel 3% anche l'Italia lo sforerà e l'Europa lì, secondo me, farà un po' finta di niente, insomma, si troverà un compromesso. Però perché, insomma, non lo si dice chiaramente? Io trovo che la Francia possa rappresentare per l'Italia un prezioso alleato. Lo dico rispettando le varie posizioni di tutti. Certo è che solleva un problema la Francia. Le attuali regole del gioco, stante le condizioni di recessione dell'Eurozona, non sono più adeguate. Renzi chiaramente ha preso un'altra strada, però una strada parallela a quella della Francia, dove si dice, beh, nell'Italia ha delle difficoltà ormai storiche, il nostro debito pubblico parla da solo, le difficoltà a fare delle riforme, la stabilità, la mancata stabilità dei governi negli ultimi 10 anni e di conseguenza noi dobbiamo riconquistare la credibilità anche nei confronti dell'Europa, ma prima ancora con noi stessi e lo possiamo fare solo con un processo di riforme che non si fanno una alla volta, si fanno sì davvero tutte insieme perché sono riforme collegate tra loro. Allora qui davvero il processo revisionale che parte dalla Costituzione e poi arriva alle riforme economiche, tratta il lavoro, tratta tutto il sistema di rapporti tra sindacati imprese e Stato, ad esempio. Certo è difficilissimo, però questo ci consentirà in tempi ragionevoli di arrivare con i compiti ben fatti, i compiti fatti, esatto, perché purtroppo i compiti non li abbiamo fatti bene, questo a volte si prende in giro, si ride su questo esempio, però purtroppo se l'Italia è nelle condizioni date oggi e è stata nelle condizioni purtroppo fino a qualche anno fa con le ricadute che ha dovuto poi il governo Monti farsene carico con lo spread a 500, ce lo ricordiamo tutti, col provvedimento Salva Italia che invece di salvare probabilmente l'Italia ha colpito oltremodo i cittadini e la nostra economia, quindi questo lo ricordiamo tutti. Noi siamo qui oggi per ripartire con un sistema che funziona a 360 gradi e rimetta la barca nelle condizioni di navigare in mare aperto. Per farlo, per farlo e concludo, noi dobbiamo avere la forza e il coraggio sì di chiedere un domani di cambiare le regole del gioco, però andando veramente con la forza di dire bene in Italia ce l'abbiamo fatta, abbiamo cambiato il sistema, abbiamo gli anticorpi dell'innovazione, abbiamo superato gli anticorpi al cambiamento. Se ci andiamo abbiamo ucciso il paese, dove vai? No, non l'abbiamo ucciso, anzi l'abbiamo rinvigorito. Guarda, guarda, guarda la situazione in cui ci ritroviamo, dopo tre anni di questa terapia noi ci ritroviamo con un debito pubblico che è aumentato, non c'è un indicatore economico che... Però noi vuole tagliare le tasse, non è che le vuole inasprire, questo è un dato nuovo. E lo facessi? Monti purtroppo ha fatto il contrario, noi vogliamo tagliare le tasse e rimettere i soldi in mano ai cittadini. Il problema è quali sono le priorità in questo momento? E le priorità in questo momento non sono sicuramente nell'articolo 18, nella riforma del Senato o cosa del genere. Questo è il punto. Quello che io penso... Lorenzi non ha messo assolutamente nuove tasse sulla casa, non ha messo nuove tasse se non quelle sulla tassazione sulle rendite finanziarie, un provvedimento giusto su cui i sindacati non hanno detto una parola, ad esempio, se si ritorna al discorso di prima, mi aspettavo certamente un atteggiamento diverso rispetto a questa manovra, andiamo avanti, abbiamo tagliato i soldi e le tasse alle imprese e abbiamo restituito un po' di risorse ai cittadini, questo è quello che abbiamo fatto finora. Andiamo avanti in questa direzione. Sì, no, Borghi però contestava, e non è il solo contestare, il fatto che lei l'ha spiegato molto bene, diciamo, l'azione di governo di Renzi, però come sa, molti dicono, sì, avete messo gli 80 Euro, avete abbassato le tasse per le imprese, però poi queste tasse rientrano nelle tasche degli italiani, siamo costretti a pagare per altre cose, dalle tasse sulla casa a tante altre cose, per esempio nella discussione che riguarda le leggi di stabilità si riparla di tasse sulle successioni che potrebbero interessare molti italiani e la riduzione delle famose agevolazioni fiscali anche, no? Quello potrebbe essere, come dire, l'inizio però di nuove tasse o no? Io sono convinto che non andremo nella direzione di nuova tassazione, Renzi l'ha annunciato più volte, lo ha fatto con la credibilità che tutti gli riconoscono il Ministro Padoan e questo è chiaro anche nell'interesse di tutti, noi sappiamo che inasprire la tassazione rispetto a un livello già insopportabile, l'attuale livello di tassazione vorrebbe dire inasprire il circolo vizioso della recessione, di conseguenza noi cercheremo di fare tutto il possibile per tagliare la spesa improduttiva dello Stato, chiaro che anche nella spesa c'è il rischio poi di acuire la recessione perché la spesa pubblica comunque alimenta il circuito, però dobbiamo trovare il modo non per fare una revisione, un taglio della spesa, ma una revisione della spesa vera per cercare di spendere meno ma spendere meglio. Sì, non so se Borghi voleva aggiungere qualcosa, se no, eh? Ma no, sì sì, questa storia di spendere meglio per spendere, ma sì, ma siamo tutti d'accordo, ma ora che faccio la revisione della spesa pubblica siamo morti, in questo caso, come giustamente veniva ricordato prima, nel momento stesso in cui c'è una crisi o una recessione, gli strumenti per venirne fuori sono soltanto due, abbassare fortemente le tasse, non ridistribuire, perché fin in questo momento, nel caso non ve ne siete accorti, la gente gli 80 Euro non li spende perché dall'altra parte è lì che non sa neanche che cosa sarà il bollettino della Tasi che gli arriverà a casa, non sa neanche cosa sarà la Tari, la Liuc, cose di questo tipo, cioè tutte cose incredibili e che abbiamo visto finora oltretutto neanche portano gettito, perché in questo momento voi avete, seguendo in maniera assolutamente sconsiderata i consigli di Davide Serra che è parte in causa di questa situazione perché ha interessi propri personali contrari a quelli dell'Italia, avendo un fondo non in Italia e quindi quanto più scappano i risparmi dell'Italia, quanto più lui è contento, avete raddoppiato, triplicato le tasse sui risparmi e il risultato cos'è stato? Minor gettito, quindi neanche portate a casa più soldi, fate soltanto fastidio alla gente, ma soprattutto la cosa incredibile che sembra che non passi qua come concetto è che se anche io mi mettessi a dare più soldi in giro alla gente, in modo drammatico, non si sa bene come, non potremmo mai fare come gli Stati Uniti, non potremmo mai perché tutti gli altri paesi dell'Europa, la Spagna, il Portogallo, che pur hanno fatto i compiti perché io ogni volta che sento i compiti mi viene l'orticaria, se sono sbagliati i compiti io non li devo fare, quindi il Portogallo ha fatto tutto quello che veniva da fare, ha privatizzato tutto, si è venduto anche chissà che cosa, non mi risulta che in questo momento sia il paese più florido del mondo, se nei paesi oxe, che quindi è una rilevazione che comprende tutto il mondo, gli unici, quelli che hanno disoccupazione a doppia cifra sono quelli dell'area Euro, evidentemente qualcuno, qualche problemino se lo deve porre, l'America ha potuto andare a deficit, vale a dire contrastare il ciclo, cosa che normalmente si fa perché se sei in recessione devi abbassare le tasse e spendere di più, però aveva una BCE che stampava e ricopriva tutto e soprattutto non aveva nessun problema di finanziamento, nessuno ha mai messo in discussione la solidità del debito pubblico americano, che pure è esattamente come il nostro come proporzione, non è tanto differente il debito pubblico americano rispetto al nostro, così come il debito giapponese per esempio è molto superiore al nostro, nessuno l'ha mai contestato, perché? Perché loro hanno sovranità monetaria, finché noi non pestiamo la testa contro questo argomento, forse non andiamo avanti da nessuna parte, se la gente volesse stoppare, se l'Europa volesse stoppare il tentativo francese di andare a deficit, basta che la banca centrale dicava, vabbè ma allora io non garantisco più il debito francese così come ha fatto con la Grecia e questi vanno a carte 48 in una settimana. pubblicità, pubblicità. Allora vado da Elisabetta Piccolotti che credo già volesse intervenire su alcune delle ultime cose che sono state dette. Sì, no, la prima cosa è un giochino sui compiti a casa, che riprendo da Borghi questa volta. Facciamo così, prendiamo la famosa lettera della BCE a Silvio Berlusconi del 2011 e guardiamola con attenzione, punto per punto, scopriremo che i compiti a casa per una parte li ha fatti Monti, in particolare le pensioni e per l'altra parte li sta facendo Matteo Renzi da bravo scolaretto, poi siccome uno scolaretto un po' vivace ogni tanto dice alla Merkel non mi trattare da scolaretto, ma questo sta facendo, andate a rivedere il testo della lettera, secondo me anche divertente dal punto di vista televisivo. E poi voglio dire una cosa su, diciamo, questo slogan dei salari che si alzeranno, voglio 80 euro e il TFR in busta paga. Innanzitutto il TFR sono già soldi dei lavoratori e non è un regalo di Matteo Renzi. E tu però è stato detto, nord è vero. Seconda cosa, Renzi sembra puntare tutto su una cosa che dice spendete, spendete, spendete. L'ha detto anche qualche ministro, mi sembra, il tema è il presente, mi metto in tasca qualcosa e voi spendete. Ci sono due problemi. Il primo è che c'è qualcuno che proprio non può spendere e sono 9 milioni di persone in stato di povertà di cui questo governo non si sta minimamente occupando, cioè non sono fatti nostri. Per queste 9 milioni di persone non c'è nulla, non c'è un ammortizzatore sociale, non c'è uno sgravio sulle tasse perché le tasse oggettivamente non le pagano, non c'è un aumento dei servizi sociali, non c'è il diritto allo studio sulla riforma della buona scuola, non c'è un piano per il lavoro, non c'è niente. Renzi si è scordato di 9 milioni di poveri italiani. E poi c'è un altro problema. Quando è che ognuno di noi spende quello che ha nel portafoglio, si sa che il 27 del mese quel portafoglio verrà riempito di nuovo. Allora è la continuità di reddito che dà fiducia alle persone e gli permette di spendere. Se io ho qualche soldo in più questo mese, ma penso il mese prossimo di non avere nulla, di certo non svuoto il portafoglio. Allora non si capisce per quale motivo si allentano tutti i vincoli che danno sicurezza alle persone. E ritorno all'articolo 18, se vuoi che le persone spendano non le devi mettere in condizione di essere ricattate e licenziate in qualsiasi minuto, appunto come è successo ieri alla notte, altrimenti non spendono. Se vuoi che le persone spendano, non puoi dire che forse è un'ipotesi, anche qui io voglio discutere delle cose vere, non delle ipotesi fantasiose, forse allarghiamo un po' il sussidio di disoccupazione. A chi? Di quanto? Per quali soggetti? Non si sa nulla. Un miliardo e mezzo di euro, l'ha detto Damiano, non lo dico io, significa un'indennità di 700 euro al mese lordi per 178 mila persone, cioè nulla, nulla rispetto ai numeri che abbiamo sulla disoccupazione. Allora qui a vendere fumo a manovella siamo capaci tutti, io credo che invece ad entrare nei numeri e a dire le cose nel merito siamo in pochi. C'è un ultimo punto di merito che esiste già nella delega del governo che mi fa dire che i salari scenderanno e è il punto del demanzionamento. Se io sono ricattabile, nel senso che il datore di lavoro può dirmi o così oppo mi, o lavori così o ti licenzio perché non hai nessuna tutela e non mi puoi nemmeno fare causa, qualcuno potrà anche dirmi fai lo stesso lavoro con minor stipendio, quindi ti demanziono. Questa cosa c'è già nella legge delega e nessuno ne parla perché si è alzato tanto polverone in modo che le cose di sostanza passino da un'altra parte. Il demanzionamento produrrà necessariamente un abbassamento dei salari. Qui qualcuno vuole spedire l'Italia all'inferno, altro che tra dieci anni saremo leader del mondo, d'Europa, del pianeta, dell'universo. Lei dice che c'è un altro piano, qual è questo altro piano? Spedire l'Italia? Il piano è spedire l'Italia all'inferno che vuol dire far diventare l'Italia uno dei paesi bacino di mano d'opera a basso costo. Qui non si devono fare produzioni ad alto valore aggiunto, qui si devono fare cose che costano poco, collaboratori mal pagati e in stato sostanzialmente di sfruttamento. Per gestire questa nostra discesa nella classifica, noi eravamo tra gli otto paesi più industrializzati del mondo, quindi dietro di noi ci sono tante posizioni in cui possiamo scendere. Per gestire questa discesa si fanno due cose, innanzitutto si distrugge lo statuto dei lavoratori che è un oggettivo impedimento alla logica di ribasso salariale. La seconda cosa, si distruggono pezzi di democrazia del paese, si fanno leggi elettorali ad hoc, si toglie il senato, si tolgono luoghi di dibattito e di mediazione, in modo che quando tutti staremo un po' più male di oggi, ed è difficile ma c'è ancora spazio per stare peggio, ci saranno meno strumenti a disposizione delle classi popolari di questo paese per provare a ribaltare la situazione. Noi siamo già entrati in una fase di gestione dello sprofondo della crisi e questa cosa è pazzesca perché accade sotto la cortina fumogena di una propaganda, di un ottimismo, io sono anche ottimista nella vita, che però in qualche modo insulta che oggi non ce la fa, insulta che oggi non ce la fa, ma diteci qualcosa di vero, le riforme di un tempo erano espansive. Volete ridurre l'Italia così? Mi verrebbe da dire, è questo il disegno finale? È il disegno opposto. Questa è la soluzione. È già in corso. Questo scenario è uno scenario purtroppo che si potrebbe verificare qualora l'Italia decidesse di non fare niente. In questi anni non abbiamo fatto niente purtroppo rispetto alle riforme che avremmo dovuto fare. L'Italia ha determinato un impoverimento della propria classe produttiva, del proprio scetto medio, del proprio potenziale di sviluppo di questo paese e noi vogliamo cercare di riqualificare il lavoro, di considerare le imprese non come un qualcosa o un qualcuno che vuole lucrare sulla pelle dei lavoratori dello Stato, ma come un'opportunità per il ceto medio, per i lavoratori, i lavoratori e le imprese alla fine fanno parte della solita partita. Se non c'è l'impresa non ci sono i lavoratori. Allora, cosa è una domanda? Perché non c'è un piano per lo start-up ed impresa? Perché il governo invece di abolire l'articolo 18 non fa un piano per lo start-up ed impresa? Perché io ricordo bene il governo Letta che ha promosso... Il governo Letta, Renzi, che va ad applaudire le start-up. Scusami, scusa, mi serve troppo a mi terminare, altrimenti non riesco a rispondere. Io ricordo bene il governo Letta con il piano delle start-up che a distanza ormai di circa due anni non ha ancora trovato piena attuazione. Allora è inutile anche continuare a legiferare ogni giorno sulla stessa direzione e sul solco di quanto già fatto. Aspettiamo centinaia e centinaia di decreti attuativi. Il sistema legislativo non funziona. Allora diamo tempo anche alle norme passate di dispiegare i propri effetti. Noi sulle start-up figuriamoci se abbiamo abbandonato la linea delle start-up, ma qualcosa è stato fatto. Diamo il tempo a quelle riforme di dispiegare i propri effetti. Allora, quando Renzi va in America, va a coccolare anche i cosiddetti nostri geni all'estero, perché io ritengo che ci sia anche qualcosa di buono se i nostri geni vanno all'estero e vengono accolti a braccia aperte. Vuol dire che il sistema formativo italiano ad esempio funziona. Noi speriamo che ci sia un biglietto, un domani di ritorno rispetto a questi geni all'estero e anzi speriamo anche un'altra cosa, di diventare più attrattivi nei confronti di alcuni geni che si sono formati all'estero e possono arrivare a lavorare, studiare e vivere in Italia. Allora questo è il paese in cui vogliamo vivere e in cui vogliamo formare le nostre future generazioni. Se certo auspichiamo l'inferno, auspichiamo un sistema... Ma io non lo auspico, sto dicendo che voi ci state portando in un luogo sbagliato. Noi auspichiamo un sistema dove la politica ad esempio fa un passo indietro. Voi avete abolito le province per finte cancellando solo le elezioni democratiche. Ma infatti sono andata a votare... La riforma della Costituzione c'è oggi e l'abbiamo fatta adesso perché non si può abolire le province senza passare dalla riforma della Costituzione. Allora per adesso abbiamo riformate, l'abbiamo svuotate. Il passaggio successivo sarà cancellato definitivamente. Posso dare due dati? Fatemi dare due dati. Uno riguarda la Germania, le ordinative e l'industria nel mese di agosto sono scesi del 5,7%. Si tratta del calo più forte dall'agosto del 2009. Questo per dire che insomma anche la Germania deve pensare i suoi problemi. E poi un dato che ha dato ieri Renzi. Dal febbraio scorso gli occupati sono cresciuti di 80 mila unità. No, lo diciamo perché siccome anche lo scenario cupo mette i brividi, voglio dare questo dato che ha dato ufficialmente ieri il Premier. Minzolino? No, io volevo dire una cosa rispetto ai discorsi che abbiamo fatto. Ecco, parlando di priorità, dire adesso che ci sono tutti questi decreti attuativi che devono essere messi in atto, beh quella è una priorità. Noi non possiamo immaginare, aspettiamo che le misure si rispieghino, ma noi sono tre anni che andiamo avanti con questa terapia. Tre anni, tre anni in un paese normale, diciamo in un paese nel 2014, ci sono un'enormità. Quindi non possiamo prendere questi alibi. C'è un problema di fondo, e torno, è il problema secondo me di Renzi, che quando tu mi parli dei decreti attuativi tu mi devi risolvere quel problema, perché non è che io faccio delle politiche se poi ne parlo soltanto sui giornali, o no? Questo è il primo problema che devi, e poi devi andare avanti. Se mi fai discorsi ad esempio sul Senato, ma il Senato non è che lì si è posto soltanto un problema semplice, invece di fare, ed è stata la diatriba, di farli nominare, come è successo con le province, che nessuno sa nulla, in cui diventa veramente l'apoteosi della casta, perché questo è farlo nominare, farli eleggere dai cittadini, che mi sembra la cosa più normale di questo mondo, o no? Quando parliamo ad esempio invece dell'istruzione, ma voi vi rendete conto che parliamo sempre di tasse, negli ultimi dieci anni, credo noi abbiamo un altro primato, il 63% in più di imposizione, non è che noi… Di tasse universitari… Un tasse è aumentato, 63%, non è che è andata alle università, c'è una difficoltà e che chiaramente non ci porta a nulla. Questi sono i problemi, e quindi torniamo al fisco. Quello che io non vedo nella prospettiva di Renzi è qualcosa che sia assolutamente coniugabile direttamente con i tempi necessari con la crisi di questo Paese. Sì, non devo ovviamente difendere Renzi, però c'è un passaggio di Fanucci che alcune di queste cose le spiega, cioè dice che queste riforme stanno insieme, tutte insieme, perciò bisognava farle tutte insieme, che naturalmente provoca tutta una serie di… Allora, non sai che sono d'accordo su tutto con Marchionne, ma visto che loro vanno d'accordo, appena un mese fa, Marchionne aveva detto la cosa più saggia di questo mondo, scegliene tre a Renzi, fai quello e poi vediamo il resto. È quello che chiedo io, perché se ne facciamo tante e non ne facciamo nessuna, noi non facciamo nessuna riforma, arriveremo a Primavera in cui il Presidente del Consiglio potrà dire, volevo fare questo, volevo cambiare il Paese, non me l'hanno fatto fare e andremo al voto, perché questo è il punto. Questo l'abbiamo già sentito. Ma è una cosa talmente evidente, perché se tu mi fai un documento economico come questo e rinvii tutto con clausole di salvaguardia, per cui adesso lo riduco nelle spese e poi già so che ho la tassa per cui nel 2015-2006 è l'IVA, via dicendo, significa che tu che cosa stai creando? Una situazione favorevole se per caso debba andare al voto in Primavera, perché non è che stringo e quindi faccio un'operazione di questo tipo. Ma non stiamo a questo, cioè nella fase che noi stiamo attraversando, in questo sono d'accordo con voi. Noi siamo veramente all'ultima spiaggia, o noi ci facciamo sentire e dico che il primo nostro interlocutore è l'Europa e allora ha un senso, altrimenti quello che noi ci diciamo qui saranno tante piccole puntate di un calvario che finirà soltanto con la fine di questo Paese. Sento molto cubo anche lo scenario di Minzolini, è un lunedì faticoso questo, Borghi e poi dobbiamo andare da Macaluso. No, ecco, l'unica cosa che vorrei che fosse ben chiara a tutti, che sì, noi possiamo anche farci sentire in Europa, ma sono nostri avversari, cioè questo che il compitismo, cioè il profeta del compito a casa continua a non capire. In realtà non c'è un rapporto fra insegnante e alunno tale per cui a questo punto il lavoro dell'insegnante è spiegare le cose all'alunno. Sono nostri concorrenti, è il calciatore che deve tirare il rigore e il portiere. Se il calciatore che deve tirare il rigore ti dice di buttarti a destra e magari anche di prendere un po' il palo con la testa, non è che noi dobbiamo farlo perché lui che è di successo ci ha detto di fare così. Lui ci dice buttarci sulla destra e colpirà sulla sinistra. La Germania in questo momento, questo dato che Pancani ha dato prima, può darsi che poi ci dirà di chiudere un occhio effettivamente su il deficit e così via? Perché? Perché il fatto che stia marcendo l'intero continente europeo per il solo e unico scopo di far rientrare la Germania dai suoi crediti, perché alla fine la motivazione di fondo di tutta questa austerità europea è solo quella e quindi già qui si capisce l'assurdità di dover fare i compiti a casa. Noi stiamo facendo delle cose che danneggiano la nostra profondamente, il nostro tessuto sociale, la nostra industria per far rientrare dai crediti la Germania. Adesso fra un po', dato che il dato che è stato detto prima è ripetuto, insomma ci sono evidenti segnali di scricchiolio dal punto di vista dell'industria, il partito dell'industria in Germania urlerà un po' più forte rispetto a quello delle banche e ci sarà allora probabilmente un po' di via libera per spendere un po' di più, ma sempre per i prodotti loro. Alla Germania che noi produciamo qua non gliene può fregare di meno, anzi meno produciamo qua e più contenti sono. E direi un'altra cosa, dato che si parla di lavoro. Ma sono d'accordo con te, io ho sempre detto che il dramma di questo paese è che mentre gli altri sono andati nell'Unione Europea facendo gli interessi tedeschi o altro, noi ci siamo alimentati e purtroppo è una colpa di questa classe dirigente, di questo paese con della retorica europeista completamente vuota, vuota. Noi abbiamo pagato tanto per essere chiari, perché c'è stata una guerra, noi non ce ne rendiamo conto e il punto centrale su chi doveva pagare la crisi, questo è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, questo è il dato essenziale e su quello non ho dubbi. Il problema che c'è stato dello spread sulla vicenda del governo Berlusconi, se vogliamo riparlare, nasce da quello, non è che nasce d'altro, perché se tu mi metti 500 miliardi di debito, diciamo di botti italiani, come ha fatto la Deutsche Bank all'epoca sul mercato, è evidente che tu mi aumenti lo spread, è talmente ovvio, è banale, ecco, questo è il punto, purtroppo, purtroppo noi continuiamo ed è un dramma di questa, mentre i tedeschi non hanno questo problema, la Merkel non ha problema a dirti, a me non interessa fai così, noi abbiamo continuato ad avere questa retorica, retorica che ci ha accompagnato da quanto abbiamo aderito, da quando siamo andati a concordare come dovevamo entrare nell'euro. Adesso poi vado da Fanuccio, voglio chiedere a Macaluso, qui c'è il concetto di interesse nazionale, diciamo, che è stato riportato, peraltro il tuo giornale è stato tutt'altro che tenero, insomma, gli ha dato una botta con l'articolo del tuo direttore, qualche giorno fa Renzi, insomma, molto severa, e che deve fare allora il Premier, a proposito di interesse nazionale? L'interesse nazionale c'è, io sono d'accordo con alcune analisi che vengono fatte sull'Europa, sono d'accordo con Borghi quando dice che ovviamente ognuno si fa i suoi interessi, rabbrividisco quando sento che poi l'uscita dall'Europa risolverebbe i nostri problemi, credo che i nostri problemi vengono da lontano, cioè che questo Paese noi lo abbiamo scassato molto prima che ci fosse l'Europa, onestamente abbiamo cominciato un lavoro abbastanza solido e prolungato, diciamo, per scassare questo Paese sotto tutti i punti di vista, istituzionale, economico, eccetera. Quindi non credo che a questo punto uscirne, credo anch'io che forse quando siamo entrati avremmo, insomma, un po' più di attenzione, non ci avrebbe fatto male, diciamo, nel trattare i parametri. Credo che questo periodo, che queste elezioni europee e in coincidenza anche con il semestre italiano, poteva essere l'occasione, sicuramente poteva essere l'occasione per rivedere alcune cose, il PD è stato tutto sommato il primo partito europeo, siamo arrivati con una grossa forza dentro, ecco, onestamente io credo che questa forza sia stata giocata molto male, onestamente, cioè aver portato a casa la la Mogherini, la nomina della Mogherini, in una situazione in cui sotto il profilo invece delle cariche a livello economico non abbiamo preso nulla e ci ritroviamo con alcuni signori che sono più tosti di quelli che c'erano prima, diciamo, che sono tutti tedesco dipendenti, diciamo, da quel punto di vista, Merkel pensiero assolutamente dominante ancora più di prima. Ecco, io credo che con quello che si era portato a casa a livello elettorale forse qualcosa di meglio potevamo farlo. Ho l'impressione che l'avvio, ma ormai ci stiamo arrivando a alla fine praticamente di questo semestre europeo non sia stato né travolgente né abbiamo anche a livello di immagine portato a casa qualcosa, mi pare che questi vertici siano stati un insuccesso uno peggio dell'altro, devo dire, mi auguro, per questo all'inizio mi permettevo di dire che forse se ci arriviamo con qualcosa in canna, ma qualcosa di concreto male non farebbe, onestamente, ecco, non credo che uscire sia la ricetta, anzi mi fa molto paura, credo però onestamente che non si possa neanche continuare a non trattare diciamo su questo 3% che per noi è un vincolo assolutamente capestro, fermo restando che noi siamo legati ai mercati mani e piedi e che appena ci muoviamo quello che ci succede lo abbiamo visto, gli appelli di Draghi non credo che arrivino da un signore diciamo che è un freddo burocrate che sta a Francoforte e non gliene freghi nulla, credo che siano degli appelli accorati per i quali probabilmente sta pagando un prezzo personale nel rapporto con la Germania. Sì, Falucio adesso darà tutte le repliche che vuole, vi faccio però un'altra domanda, perché questo semestre italiano che insomma tra poco si concluderà, diciamo segni al di là della nomina della Mogherini, poi ognuno la può pensare ovviamente come vuole su questa nomina, che cosa altro riusciremo a portarci a casa? Penso per esempio a una cosa molto concreta, ci sarà modo di convincere i partner europei di scomputare gli investimenti per infrastrutture, scuola, digitalizzazione e quant'altro dal patto di stabilità che è un'altra battaglia che era stata annunciata, porteremo a casa questo, dico per dire, o no? Questa è la battaglia, la madre di tutte le battaglie, cercare di ottenere una deroga sugli investimenti, una misura quindi anticiclica che ci consentirà di rimettere in moto la macchina della nostra economia, chiaro è l'annuncio di Juncker dei 300 miliardi si deve ancora tradurre ad oggi in atti concreti, perché per ora si è fermato all'annuncio, noi dobbiamo essere pronti a tradurre comunque questa azione in fatti concreti, abbiamo più volte visto in passato misure e incentivi europei non tradursi in realtà per colpa della burocrazia italiana, cattiva politica, cattiva gestione delle risorse, questo non dovrà più ripetersi in futuro, dobbiamo garantire attraverso un processo legislativo che sia facile anche da attuare e concretamente realizzabile, già ora anche senza avere queste risorse, cioè con quello che abbiamo dobbiamo inserirsi in un meccanismo più semplice, meno burocrazia, meno vincoli, meno Stato, più impresa, allora se facciamo così sono convinto che qualora queste risorse arrivassero davvero e lo ospitiamo tutti, riusciremo davvero a invertire il senso di marcia, voglio però replicare a Borghi su un tema che lo caratterizza, anche è legittimo dal suo punto di vista perché è coerente con quello che è sempre espresso, che in Europa siamo tutti avversari, questo è un suo assunto, oggi lo ha ripetuto, questo a mio avviso è una politica molto miope di quella che è un'economia globalizzata e globale, se l'Italia e la Francia vanno male, va male anche per la Germania, questo è un dato di fatto, anche i dati sull'industria della Germania dipenderanno in parte certamente dalla crisi in Ucraina, i rapporti con la Russia, certo questo influisce, ma influisce il fatto che se l'Europa va male i paesi europei sono legati l'uno all'altro, quindi non è una questione di filosofia o di idealità, è una questione... Sì, ci piacerebbe stare male come i tedeschi, magari a stare male come i tedeschi... Questo sì, però io voglio cercare di far passare il messaggio, quando dicevo che la Francia è un nostro alleato anche in questa battaglia per cercare di far ripartire la macchina dell'economia, è che noi se riusciamo a condividere azioni comuni, gli alleati possono diventare la nostra forza, possiamo fare una battaglia contro le politiche ad esempio della Cina, dell'India, del Medio Oriente, possiamo davvero cercare di rafforzare le nostre strategie e se davvero queste strategie diventeranno comuni riusciremo a vincere la battaglia, se ognuno pensa al proprio orticello e si pensa di risolvere il problema come si faceva vent'anni fa con la svalutazione e con la leva del debito non si va da nessuna parte, perché Borghi non è innovativo, Borghi guarda il passato nella sua ricetta, ci siamo già passati e cosa abbiamo ottenuto? Stavamo meglio! Un debito pubblico abnorme di cui oggi noi paghiamo le conseguenze, forse vent'anni fa stavano meglio, è vero, ma oggi la mia generazione e quelle che verranno staranno peggio a causa di quelle politiche insane che abbiamo purtroppo praticato negli anni passati. Ma il debito pubblico non c'entra nulla! Come non c'entra nulla? Come non c'entra nulla? Ma allora la svalutazione, la leva del debito, li abbiamo praticati con grande leggerezza negli anni passati e oggi purtroppo che non lo possiamo più fare, quella ricetta non è più replicabile, dobbiamo percorrere strade più difficili e nuove, invece purtroppo sì, perché noi oggi ci troviamo di fronte a chi quel debito pubblico lo deve rifinanziare ogni mese, non ogni anno, ogni mese noi ci troviamo a rifinanziare il debito pubblico. Ma in tutte le parti del mondo c'è il debito pubblico che va rifinanziato ogni mese. Allora in quel caso lo spread sale a 500, 700, 800 e arriva la troica, questo è quello che accade, poi si può parlare di compiti a casa, di forme, di cose da fare. In America, in Giappone, in Inghilterra non hanno il debito pubblico. Quando parlava prima e me lo sono appuntato, la solidità del debito pubblico americano è uguale alla solidità del debito pubblico italiano, non è così. Perché il debito pubblico americano può essere anche forse in alcuni casi i rapporti più alto nei denominatori e nei numeratori rispetto al nostro, però hanno una crescita e un livello tale che probabilmente non riescano a garantirlo. Noi con la crescita dei dati che abbiamo, questo debito oggi non ce lo possiamo permettere. Allora meno male che c'è Draghi, meno male c'è l'Europa, altrimenti non so dove saremo oggi. Fanucci, il debito non si garantisce con la crescita, semmai si ripaga con la crescita. E se non si ripaga con la crescita un po' non si ripaga. Perché se io cresco sale il denominatore e però l'Europa non ci fa crescere perché per crescere bisogna avere cose. Il debito si garantisce con la banca centrale, questo non vi entra in testa. Cioè perché è saltata prima l'Irlanda di noi? Eppure il debito pubblico era il 20%. Perché a un certo punto la BCA con decisione assolutamente criminale, però funzionale agli interessi di qualcuno, ha detto noi non paghiamo più il debito della Grecia, non lo garantiamo più. A quel punto tutti gli altri si sono ritrovati senza garanzia. Quindi non è che noi siamo saltati per aria perché avevamo il debito pubblico delle generazioni precedenti, da che mondo è mondo, in tutte le parti del mondo il debito, che sia tanto, che sia poco, si rinnova ogni mese e oltretutto sempre in un mondo normale, in teoria gli interessi che si pagano sul debito dovrebbero essere pari all'inflazione. Vale a dire che nel momento stesso in cui tu paghi degli interessi sul debito, dall'altra parte il tuo debito viene eroso dall'inflazione e va in pari. Noi siamo riusciti nell'incredibile impresa di riuscire a far diventare una cosa che era normalmente per definizione risk free, vale a dire priva di rischio, un asset rischioso. Cioè in Europa siamo riusciti anche a fare questo, vale a dire far diventare il debito pubblico rischioso. In Giappone, ripeto, c'è il 250% del debito pubblico. Hanno gli tsunami, hanno il Fukushima, hanno ogni tipo di cosa che normalmente in una situazione, se fosse successo qua in un paese europeo, quello che è successo a loro, sarebbero, non dico con lo spread a 500, ma con lo spread a 5000, invece lo spread è zero. Perché? Perché in ogni caso c'è una banca centrale che garantisce. Questo dobbiamo evitare di dire questa balla che il debito pubblico ci condiziona, che noi siamo in questa condizione per il debito pubblico, perché ripeto, allora se il problema fosse stato il debito pubblico sarebbe dovuta saltare prima la Francia della Spagna, invece no, salta prima la Spagna. E la cosa che mi spaventa veramente tanto è che tutti i paesi europei si stanno molto velocemente meridionalizzando, vale a dire ricevere soldi per essere mantenuti, così come nel vecchio modello italiano le regioni del sud ricevevano trasferimenti da regione del nord, sta man mano, sopendo ogni tipo di iniziativa di ribellione in Spagna, in Portogallo e così via, va bene così. Ma io vorrei dire una cosa però a voi del PD, se veramente il vostro modello è quello siamo tutti un mondo unito, l'Europa vanno tutti bene. Allora, questi trasferimenti monetari che ci devono essere fra le regioni povere e le regioni ricche, facciamole pagare le regioni povere e le regioni ricche, andiamo alla Germania a dire, senti facciamo così, in questo momento l'industria del nord sta morendo, i trasferimenti monetari che prima quando noi avevamo una nostra moneta ci convenivano, adesso purtroppo non stanno più in piedi, tu Germania paga tu per favore i trasferimenti monetari per il Portogallo, per il sud Italia e per le regioni che sono in difficoltà. Vediamo cosa vi rispondono, perché altrimenti qui non si tiene, il nord in questo momento sta chiudendo, nel caso non ve ne siete resi conto, e non può più pagare poi dopo i trasferimenti monetari, prima gli conveniva perché c'era la lira, adesso non può più permetterselo, quindi se volete veramente fare un'unica economia, quindi dove c'è solidarietà e tutti si tengono, allora facciamo che i trasferimenti monetari vengono pagati da chi ha avuto vantaggio chiaro, chiaro, pubblico, devo fare invece adesso una breve pausa per la pubblicità. Allora sull'Europa Elisabetta Viccolotti credo. Ma solo una battuta, anch'io credo che uscire dall'Europa sia un'impresa a rischio altissimo, francamente tenterei la strada del cambiamento dell'Europa, denunciamo da anni che non c'è democrazia, sovranità in questo continente, non si capisce perché anche qui tutte le riforme che potessero togliere un po' di strapotere ai governi nazionali non sono mai state fatte, e su questo voglio dire che il confronto non è solo fra governi di diversi stati, per cui la dinamica descrive benissimo Borghi, in Europa c'è anche un confronto fra partiti. Allora io segnalo che uno dei problemi maggiori di questa gestione dell'austerità è stato che lo strumento di questa gestione è stata le larghe intese, ovunque, ovvero un accordo fra il Partito Socialista Europeo e i popolari. Ovunque si è manifestato un accordo politico di questo tipo si sono portate avanti quelle politiche che la Merkel sponsorizza e di cui è la capostipite e si è indebolita una visione alternativa dell'Europa. In alcuni paesi, come la Grecia, è accaduto proprio che questo è coinciso con un suicidio del partito corrispondente, del PASOC al socialismo europeo. In altri paesi la dinamica è stata diversa, ma comunque le larghe intese sono sempre state lo strumento di gestione dell'impoverimento del quadro. E credo che il governo Renzi, anche se è evidente che il peso di Alfano continua a diminuire, ma questo dialogo del patto del Nazareno con Forza Italia, che comunque si manifesta ad ogni decisione fondamentale, dimostri che su il rispetto dei compiti a casa c'è un sentire comune di fondo che a me spaventa molto. La sinistra in Italia e in Europa dovrebbe rianimare se stessa, per tornare alla domanda che mi faceva all'inizio, dovrebbe trovare un senso, un perché esattamente nella rottura con queste politiche e quindi nella costruzione di coalizioni e scenari di tipo diverso. Io non sopporto la discussione che dice PDC, PDNO, ogni volta il tema della sinistra è solo che tipo di alleanze fai, se le fai o non le fai. Per me il tema è come si può, a partire dalla critica all'austerity, provare a costruire il più ampio fronte possibile che proponga una rottura sul terreno della democrazia e sul terreno della politica economica. Renzi non lo sta facendo, o almeno lo fa a slogan. Noi ci aspettiamo qualcosa di veramente più profondo dello slogan e per farlo deve rompere con i neoliberisti. Invece Renzi ha importato dentro il PD un pezzo della cultura neoliberista italiana e internazionale. Renzi ascolta di più Marchionne che premi Nobel come Stiglitz, Krugman, come Piketty. Questa è una mutazione genetica che a noi che siamo di sinistra come Sinistra Ecologia e Libertà non può non interrogarci, perché non è questione solo di schieramento e di pedine, è questione dei fondamentali. Volevo sfruculiare Minzolini e Fanucci con un paio di problemi che riguardano più direttamente i loro partiti. Parto da Minzolini, che succede? Il partito sappiamo rispetto anche all'appoggio meno al governo Renzi sulle riforme e poi sui provvedimenti economici, discute molto. L'altro giorno in maniera abbastanza inedita c'è stato un duro scontro tra Berlusconi e Fitto che però dichiara che non ha nessuna intenzione di andarsi dal partito e poi ci avete anche tutta una questione, voi, ma credo che questo riguardi per altri versi anche il Partito Democratico, tutta la questione proprio di un partito che ha pochi iscritti, voi ne avete 8 mila che è obberato dai debiti, Berlusconi si è fatto credo nuovamente garante. Insomma che sta succedendo? Se dovessimo dare, visto che sei stato un giornalista, anche hai fatto, che titolo daresti sullo Stato dell'arte in questo momento di Forza Italia? Come sta Forza Italia? Il problema del finanziamento esiste, però è un problema che probabilmente anche figlio di una certa demagogia con cui si è affrontato il problema del finanziamento ai partiti, infatti riguarda tutti. C'è un problema secondo me molto più profondo che riguarda proprio il ruolo che uno ha. Vedi, rispetto al discorso che faceva anche Elisabetta, io parto da un presupposto, il dramma ora è che non c'è una fisiologia di economia chiara del quadro politico che noi stiamo mettendo in atto. Si è partito in questa legislatura in cui l'unico equilibrio possibile, ve lo ricordate, era quello della larga coalizione. È fallito perché nel senso il governo Letta non ha prima di fatto né soddisfatto Forza Italia e poi non ha soddisfatto neanche il PD. Però io non credo che quella formula, quella che c'è in atto adesso, sia capace di fare quel tipo di riforme di cui è necessario, di cui ha bisogno il Paese. Perché la vedo estremamente gracile. Rispetto a questa situazione qua, noi dobbiamo scegliere. O si va su un'ipotesi di quel tipo, quindi con un nuovo Presidente del Consiglio, tutti insieme e con delle riforme che abbiano delle priorità chiare. O altrimenti noi dobbiamo essere all'opposizione. Perché rischiamo né di contribuire... Ma anche sulle riforme istituzionali. Ma guarda che le due cose... Il problema non è le riforme istituzionali e ritorno. La priorità non è quella. Cioè noi stiamo parlando delle riforme... parliamo... è come se diciamo stiamo sulla barca, il transatlantico... Noi parliamo d'altro. Non è quello. Il punto centrale è tutt'altro. E su quello noi dobbiamo avere una posizione chiara. Perché se non sei all'opposizione non dai neanche un'ipotesi alternativa. O altrimenti sono altri che assumono quel ruolo. Ed è assolutamente esiziale. Per cui io per alcuni versi... Ma lo vedi anche nelle contraddizioni di quella riunione. Da una parte che cosa è avvenuto? È avvenuto che Berlusconi ha detto no al nuovo centrodestra perché sono dei traditori e perché altrimenti... E va bene. E sono d'accordo. Ma poi tu non puoi andare a criticare chi ti pone un problema, diciamo su una linea molto chiara di opposizione, quando i tuoi alleati che ti scegli sono, non so, la Lega e Fratelli d'Italia che sono ancora più là. C'è una contraddizione, siamo d'accordo? Allora, il punto qual è? È che mai come ora, in una fase come questa, i partiti, ma riguardano gli uni e gli altri, io dico, hanno bisogno di difendere la propria identità. Questo riguarda anche il PD. Un certo tipo di riforme, se tu le fai con una formula politica, chiaramente perdi la tua natura di sinistra. È evidente perché tu te ne fai carico. Se la fai in una larga coalizione, probabilmente è un problema che sicuramente è meno pesante di quello che dovrebbe essere. È più attutito. Falucci, tutta questa polemica, iscritti, non iscritti, sono più importanti gli iscritti o gli elettori, mi verrebbe da dire, perché è un po' questa la discussione in corso. Renzi dice meglio così, meglio o meno iscritti dei falsi militanti, peraltro credo che ci sarà una direzione dedicata al futuro del partito, alla forma del partito, insomma tutte le questioni che investono più direttamente il partito. Cosa succede? Storicamente dopo un congresso è normale che ci sia una fisiologica lentezza nel rifare la tessera. Poi devo anche essere onesto, lo dico da iscritto, le tessere sono arrivate tardissimo quest'anno, sono arrivate a giugno inoltrato, quindi il problema oggettivo e anche pratico nel rifare la tessera ha coinvolto migliaia di iscritti. Detto questo, sono convinto che il problema sarà notevolmente ridimensionato a fine anno, quando chiaramente avremo dato modo a tutti gli iscritti di riprendere la tessera e arriveremo circa, ha parlato il vice segretario Guerini, a 300 mila, superando la soglia dei 300 mila, che è una soglia oltre che psicologica molto importante, visti anche gli 8 mila iscritti di Forza Italia e gli altri pochi iscritti degli altri partiti in Italia. Noi siamo l'unico partito che si può definire tale in Italia, siamo un partito che è riuscito a mettere insieme il passato e il futuro. Sarei curioso di sapere davvero quanti iscritti alla Lega, ma al di là del termine numerico non conta il termine numerico, conta lo spirito, non torna, conta la comunità, il senso di comunità. Noi siamo riusciti nel PD ad allargare la comunità cercando di fidelizzare coloro i quali venivano da una storia diversa, perché chiaramente il PD nasce da una fusione di due partiti che avevano una storia diversa e con l'operazione Renzi riuscire anche ad attrarre persone che fino alle europee non avevano mai votato il Partito Democratico. Ora la sfida è conservare, valorizzare se è possibile crescere questa platea e è impossibile crescere questa platea se ci concentriamo solo sugli iscritti. Dobbiamo valorizzare il ruolo dell'iscritto, chiaramente con un ruolo magari diverso rispetto al passato, perché oggi le consultazioni sono sempre aperte anche agli elettori, non solo agli iscritti, quindi abbiamo aperto anche la fase decisionale, cercando di coinvolgere queste persone di cui noi abbiamo tutti i dati, tutti i riferimenti, un tesoro prezioso, non soltanto quando si va a scegliere una persona. Conta, conta moltissimo, ma dobbiamo coinvolgere la platea delle primarie nelle decisioni importanti che muovono questo partito. Allora questo sì è il nostro intento. L'ultima battuta con Macaluso, che poi è sulla scia di quello che ho chiesto adesso, per esempio nelle primarie del centro-sinistra, in Calabria ci sarà l'elezione poi al nuovo governatore, ha vinto il candidato di Bersani. Oliverio era a Callipo il candidato Renziano, è segnale di qualcosa? Secondo te la Calabria fa storia a parte? No, non credo che sia, né storia a parte, né credo, sicuramente ci sono dei mal di pancia, non credo che la situazione sia al limite del ribaltamento, credo che le logiche locali poi sono sempre molto complesse, insomma. Poi bisogna vedere in questo momento che cosa significa essere Bersaniano o Renziano. Adesso questo per semplicità lo diciamo. Esatto, però onestamente non credo che ci sia una crisi da questo punto di vista. Allora, grazie ai nostri ospiti, voglio ricordare anche che oggi, adesso ci sarà come sempre con Tiziana Manella Coffee Break e poi l'area che tira con Mirta Merlino, Mirta Merlino che ospiterà, credo che è un po' che non lo vediamo in televisione, Antonino Ingroia, l'ex magistrato, insomma sarà interessante anche alla luce di tutte le ultime vicende che riguardano ancora la trattativa, il processo sulla trattativa presunta stato mafia, sapete che sarà ascoltato il capo dello Stato, ma anche le critiche non troppo velate che Ingroia ha rivolto al sindaco sospeso di Napoli, De Magistris. Vabbè, e questo insomma è uno degli appuntamenti della mattinata. Grazie, noi ci vediamo domani mattina.